Io mi sono vaccinato, l'ho fatto il primo giorno perché ho voluto dimostrare che ci credo Perché è il mio dovere Perché è giusto, perché sa cos'anto Così mitico l'aggressività del coronavirus in caso di contagio Per rivivere, per riabbracciare i nostri cari e per ritornare a quello che era la nostra normalità Fatelo anche voi